Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Paolo, qui con Nevio, come nasce questo accordo tra la Federazione Fide Treccante e l'ANAM? Nasce innanzitutto dal consolidamento delle amicizie e dalla voglia di dare dei riconoscimenti a cavalli maremmani per queste discipline che sono montalavoro tradizionale, addestramento classico, gincana e montamaremmana. Per volontà anche dell'ANAM siamo riusciti a mettere insieme questa voglia di far esplodere il cavallo maremmano in queste discipline e con le amicizie che abbiamo all'interno entrambi, sia in ANAM che nella Commissione della Volontà di Lavoro, siamo riusciti a fare questa sorta di gentleman agreement, come direbbero gli inglesi. Grazie. 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 Grazie.